Presentato a Leini il progetto CO&GO, condivisione e governance, dedicato al carpooling. Fa parte del programma di cooperazione trasfrontaliero tra Italia e Francia, con il finanziamento di Interreg Alcotra. Promuovere una mobilità sostenibile nell'area trasfrontaliera attraverso la condivisione di auto di proprietà, appunto il carpooling, per poi integrarla con altre forme di mobilità e un'iniziativa rivolta a residenti, lavoratori e turisti. E' l'obiettivo inserito nel programma di cooperazione trasfrontaliero tra Italia e Francia, di cui la città metropolitana di Torino è ente capofila, mentre il comune di Leini è partner. E' stata organizzata proprio a Leini una riunione di presentazione che si è svolta nella mattinata del 5 ottobre presso il Teatro Civico Pavarotti. Il carpooling, inteso come uso il condiviso di un'auto privata tra due o più persone che percorrono lo stesso tragitto, può rappresentare uno strumento efficace per una mobilità più sostenibile. Nell'ambito del progetto C.O.N. Go è stata presentata un'indagine sulle buone pratiche realizzate in Italia, Francia, Europa e oltreoceano. Dopo i saluti del consigliere delegato ai trasporti della città metropolitana di Torino, Dimitri De Vita, e della sindaca di Leini, Gabriella Leone, i lavori hanno visto la partecipazione di sindaci e amministratori locali, tecnici e funzionari di Italia e Francia, degli enti coinvolti nel progetto. E' una progettualità che si declina nell'ambito dell'Alcotra Interreg, c'è questa forma di condivisione che abbiamo avuto con la regione Auvergne e Ronalps, e arriviamo finalmente a confrontarci sulle pratiche, la best practice che vogliamo attuare sui nostri territori, per quanto concerne la condivisione dell'autovettura. Questo ci porta chiaramente ad un grosso risparmio energetico, e soprattutto ad una riduzione dell'impatto ambientale del trasporto, che riteniamo fondamentale. Perché c'è questo confronto e perché si vuole implementare questa attività? Per un motivo molto semplice. Intanto è chiaramente quello di rendere più efficiente e più sostenibile il trasporto privato, soprattutto nel tragitto verso casa, verso le strutture sanitarie, verso le strutture pubbliche, verso il lavoro e quindi anche verso la scuola. Ma soprattutto si vuole ridurre l'inquinamento ambientale. Una cosa importante alla quale teniamo e sulla quale noi vogliamo incidere in maniera particolare che finalmente si arrivi ad una normativa inizialmente metropolitana, successivamente regionale, per poi essere nazionale e quindi come punto di riferimento il nostro lavoro fatto sul territorio, perché venga riconosciuto in termini normativi la possibilità e l'impegno che viene svolto dai cittadini che utilizzano questa modalità di trasporto per essere comunque sia sgravati da determinati balzelli di ordine fiscale che normalmente ricadono sulle autovetture, ma soprattutto anche sui blocchi che si verificano nelle nostre città. Questa tappa di Reni è importante, mi auguro che sia effettivamente una tappa importante per quanto riguarda il discorso della promozione e della diffusione del carpooling. una modalità di mobilità diciamo sostenibile e questo va valutato sotto due aspetti appunto. In primo luogo appunto una mobilità più sostenibile legato proprio alla nostra situazione dei comuni della cintura di Torino, della cintura urbana, quindi Leini e gli altri, perché mentre effettivamente Torino è chilometricamente vicina, però sotto molti aspetti in realtà appare anche non sempre facilmente e velocemente raggiungibile proprio per il discorso della difficoltà per quanto riguarda la probabilità dei mezzi pubblici, sia per noi per quanto riguarda noi per il trasporto su gomma. Noi abbiamo la linea del 46 ma che presenta molte problematiche e se ne rendono ben conto i pendolari, sia lavoratori che studenti, le cui lamentele insomma sono all'ordine del giorno. Usare meglio le macchine che già circolano è veramente una grande opportunità che dobbiamo imparare, come dire, ad utilizzare sul nostro territorio. Il patto territoriale collabora con la città metropolitana di Torino in questo bel progetto che ci mette anche a disposizione delle esperienze interessanti che avvengono di là dalle Alpi, in Francia, a Schamberie e a Lione. Quindi utilizzare attraverso la cooperazione questi scambi ci permetterà di conoscere le loro realtà e ad applicare sul nostro territorio. Noi abbiamo come 11 comuni della zona ovest, oltre 230 mila abitanti, un territorio caratterizzato da più specificità, sicuramente quella del lavoro, quindi nell'area urbana torinese, quella per esempio turistica con la grande portata della reggia di Venaria, oppure anche la possibilità per i piccoli comuni di arrivare più facilmente al centro. Ecco, con queste tre direttrici svilupperemo la condivisione dell'auto e quindi proporremo ai nostri cittadini di trovarsi magari in dei luoghi definiti, come l'esperienza francese ci racconta, per condividere questi passaggi, per andare a lavorare, per muoversi più agevolmente nei nostri territori.